Ciao sono Get Far Fargetta, vi aspetto al New Generation, al palazzetto, a Caprile, l'undici maggio, non mancate! New Generation Entertainment presenta New Generation Club 2013, sabato undici maggio, palazzetto dello sport Caprile di Alec. Accenderà la notte DJ Get Far Mario Fargetta, alla voce Ricky Strom Papete Beach. I migliori effetti speciali d'Italia by Muovi la Notte. A partire dall'Happy Hour in esterna dalle 18 fino a notte inoltrata, New Generation vi farà divertire. Vi aspettiamo!